MotoGP Assen, questo è un video light perché non ha molto senso parlare di quello che è successo realmente in pista, a Lorenzo hanno cambiato le gomme anche se il difensore d'ufficio di Rossi dice no e Forcada lo smentisce ufficialmente su Twitter e il taglio è quello che è, mi spiego fra tutti i tagli di carriera di Valentino questo è quello che è riuscito meglio, chiunque si occupa di corse, l'ho anche scritto su Facebook, molti team manager, molti detti lavori, chiunque si occupa di corse sa bene che tagliare è irregolare, come falciare qualcuno in area lo è nel calcio ma è altrettanto vero che ci sono calciatori esperti nel far sì che questo succeda, è ovvio che l'ingiunità l'ha commessa Marchez che ha fatto in modo di rendere il taglio l'unica soluzione apparentemente possibile per quanto a mio avviso comunque irregolare, per il resto a parti invertite, lo sappiamo tutti, sarebbe successa la stessa identica cosa secondo me per quanto riguarda la direzione gara se è vero che abbiamo assistito a tagli uguali entrambi non penalizzati in passato è altrettanto vero che è il precedente quello che fa poi il trend ovvero Laguna Seca e imponeva ad evitare i sollevamenti popolari di mandare giù anche il taglio di Marchez, insomma intendiamoci questo è il senso, detto questo a me onestamente non frega niente di quello che è successo della piega farsesca che sta prendendo per certi versi e per certi aspetti la MotoGP, se sta bene a tutti che Lorenzo faccia ridere e poi dopo la firma inizia a vincere e poi si stoppi miracolosamente quando vince troppo va bene così, se sta bene a tutti che Marchez sembri un deficiente e poi si accenda come per un copione necessario idem, è ovvio che senza gridare al complotto la MotoGP è gestita in un certo modo, mi sembra evidente che quello che tira è un certo pilota, sono certe situazioni e anche poi la partecipazione al festival di Goodwood e tutto l'indotto rende tutto molto chiaro, è evidente, non sono io che partecipo al Mondiale, se sta bene ad altri affidare tutto il merchandising, tutto quanto ad un'azienda, permettere che certe cose succedano, che tutto quanto lo scenario si crei in un certo modo, voglio dire se sta bene che un pilota faccia il collaudatore di un brand di pneumatici all'ultimo anno in cui si corre, sta bene a tutti, è inutile, è anche giusto dopo sopportare quello che succede, è giusto fare pippa, poi va avanti fino a che uno non esagera, la gente si rompe le palline e altre situazioni sono durate quello che sono durate. Io posso solo dire quello che vedo e far notare quello che mi sembra strano, non mi sembra strano che Rossi vinca, essendo per la maggior parte delle volte, soprattutto negli ultimi anni, il più forte, mi fa solo specie che alcune volte le cose, certe cose accadono in modo veramente clamoroso ed eclatante, come scritte da un copione e come scritte da un canovaccio. Una volta detto ed elencati i singoli casi, se qualcuno mi vuole attribuire tesi complottistiche faccia pure, non penso che vi sia un complotto preciso, ma mi si lascia dire che alcune situazioni sono abbastanza eclatanti per cui uno non ci debba pensare su e che non succedono in nessun ambito motoristico. Come in nessun altro caso c'è la predominanza di una figura rispetto alle altre, che questa figura come accade in Formula uno fa comodo che vinca. Detto questo non vuol dire che tutto sia organizzato affinché uno vinca, però tante volte succedono cose abbastanza strane. Non sta a me fare due più due, io non tifo per nessuno e non ci guadagno se vince uno o l'altro, io. Quello che mi dà fastidio è quello che mi riguarda direttamente, ossia il giornalismo italiano, cioè nel paese in cui vivo. Non siamo solo costretti a pagare Sky con quello che costa, non solo siamo costretti ad una telecronaca circense, che dire di parte è poco, ma tocca assorbire l'indecenza adesso, sempre di più, anche nei giorni precedenti e successivi alla gara, come se non bastasse più la telecronaca faziosa. C'è tutta una preparazione fatta di speciali monotematici, servizi allusivi nei confronti di avversali, piloti ignorati e sminuiti. Un esempio di Aprilia non si è parlato, ma del concerto di Giovanni Ottisi, autore della colonna sonora del campionato. Prima e dopo la gara, non solo durante, non più durante, non basta più quello che succede. C'è la derisione del pistolotto pre e post, la difesa d'ufficio ad oltranza, l'avallo del ridicolo oltre il necessario. La voce della MotoGP, che ancora non ha capito che è un semplice cronista e non uno dei protagonisti, confeziona le telecronache sempre meno per raccontare lo spettacolo, quanto e sempre più per essere lo spettacolo stesso, è la convinzione di essere quel plus, chiamato a fornire valore ad un prodotto che altrimenti sarebbe secondo lui di minor qualità. Il cantore delle gesta dei protagonisti che crede di essere egli stesso protagonista dello spettacolo, è merito del prezzo del biglietto, del prezzo del biglietto televisivo, non è così, anzi ultimamente la Nauda sta salendo insieme alla comicità, da qui le parodie, le prese in giro, eccetera. La preoccupazione durante la gara, ma l'ho detto Rossi, c'è, è la preoccupazione di aver elencato tutti gli altri termini inventati da copione, protagonismo fuori luogo perché i protagonisti sono altri. Diciamoci la verità, per tutto quello che Sky sta mettendo in campo come mezzi, impegno, mezzi tecnici, soldi, personale, siamo sui 20.000 spettatori con pesi speciali, specialini, repliche, replichine, considerato quello che è la MotoGP non è niente. La maggior parte della gente chiede sul web come stanno andando le gare, perché non ha i soldi per guardarsele, molti se la guardano in inglese o in portoghese, tanti sorpassi le classifiche non hanno lingua, altri ancora fanno F5 sulla pagina della MotoGP per vedere i tempi e le classifiche, dell'ordine di gara, i restanti sono al bar a consumare un caffè. Gli spettatori non contano, ricordiamocelo, contano gli abbonamenti. Un post su una pagina ridicola come Mr. Helmet, che non è la MotoGP, non è spettacolare, sono tre righe, fa mediamente 15.000 visualizzazioni, 15.000, 25.000, 30.000 anche, mediamente. Qualcuno qui è parte di un fallimento e non sono io che scrivo Mr. Helmet nei ritagli di tempo, prima di andare al supermercato, dopo aver tagliato il prato e giocato col cane, 20.000, ma facciamo che mi sbaglio sono 50.000, considerando che la MotoGP, tutti sanno più o meno cosa sia, che le news vanno nei TG, sui giornali, in testa, a ogni trasmissione sportiva e non, e che anche mia nonna chiede che abbia vinto, è un disastro costato 20 milioni di euro, più o meno, rischia di diventare come Stato e Governo. Se vai per strada a chiedere la differenza, 9 su 10 non sanno quale sia, e non ti sanno dare una definizione, e non sanno cosa è successo realmente, ne parlano tutti, ma nessuno l'ha visti veramente. La Superbike, che è il campionato dei nonni, degli sfigati, seguita televisivamente con la metà dei mezzi e come spettatori solo da gente che sa cosa sono le moto, ossia le appassionati fissati, su Italia 1 fa tipo 18.000, un campionato in cui l'ultimo italiano ad aver vinto è quello che MotoGP fa ultimo tutte le volte, e sia Melandri, l'ultima vittorata di Melandri. Il che la dice lunga sull'insuccesso della faccenda MotoGP, soprattutto se nonostante si tenga conto che uno è a pagamento e l'altro è gratis, il paragone non regge, stiamo paragonando MotoGP alla Superbike, un campionato che tutti conoscono, con un campionato di cui nemmeno i tassisti delle città dove si corre conoscono l'esistenza. A Portimao mi porta l'autodromo, ah perché cosa c'è? Come c'è il mondiale? Ah sì davvero? E chi corre? Mondiale Superbike? Le bici? Così, questi livelli qua. Il calcio a pagamento continua a fare di più della palla a mano del patinaggio gratis, no? Quindi poche pippe. Da qui, oltre alla disfatta e al ridicolo, uno che dopo il lavoro è chiamato al dopolavoro, che chiede alla gente sui social di fare gli abbonamenti, che scrive ad uno ad uno a chi lo critica per indottrinarlo, che chiede di non seguire più determinate pagine, che difende il proprio idolo creatore dell'indotto in cui mangia con posto lunghissimi. Una volta c'era la telecronaca sempre più faziosa e finiva lì, quasi lì. Adesso il vero lavoro viene fatto prima e dopo, con ore e ore di tv e web per difendere, architettare, scrivere, smentire l'ovvio, rispondere minacciando querele, tirare su casini, chiamare le radio per far smettere le parodie, le aziende per far smettere di lavorare, taggare, deridere chi è in disaccordo, insomma un lavorone. Giustificato dalla cifra intascata, è vero, ma anche dal dover esistere, dal dover difendere il senso della propria esistenza, la teoria in base alla quale lo spettacolo sarebbe meno spettacolo senza le persone giuste che lo raccontano, senza i paladini. Difendere il doppio datore di lavoro, quello reale e quello in pista che fa sì che tutti i loro parassiti abbiano un senso pur non avendo il pilota in questione alcun bisogno di questi saltimbanchi, anzi sono convinto che il pilota in questione avrebbe molto più estimatori se non ci fosse questa nausea artefatta sempre più diffusa. Non è così che deve funzionare, è inutile fare elenco dei singoli momenti tristi del weekend o dei singoli momenti in cui si è toccato il fondo, che sono così tanti che non basterebbero nemmeno più i minuti del video che sono sempre troppi e portano un video sempre troppo lungo. Non è così che deve funzionare. Per usare un paragone di tipo culinario, tanto è questo che funziona ultimamente, gli chef cucinano, i commensali mangiano e i camerieri si limitino a portare i piatti senza farli cadere. Non devono fare molto di più, non devono fare spettacolo, devono portare i piatti, sarebbe già un risultato quello. Mettere le mani nel piatto per mescolarlo e renderlo più interessante, assaggiare il cibo e magari masticarlo, condirlo ulteriormente su propria iniziativa, credendosi parte protagonista del meccanismo, invece che semplice ingranaggio. Sono cose di cui chi mangia non ha bisogno e che fanno anche un po' schifo.